Nome Tiziano Ruolo Sciuità Gruppo Copernidana Pierpaolo Ruolo Marito Gruppo Coperniremi Beatrice Ruolo Cattello barra moglie Gruppo Gruppo teatrale Nome Drilli Ruolo Lintò Gruppo Coperni Baffi Alice Ruolo Signora Mitsu Gruppo Copernifiori Nome Eleonora Ruolo Centene Gruppo Coperni Pijama Nome Tidia Ruolo Vagini Gruppo Coperni Anna Ruolo Lucida Gruppo Coperni Mama Nome Matteo Ruolo Gruppo Coperni Ciao Anna Nome Alice Puc Ruolo Signora Shin Gruppo Coperni Sole Nome Nicolò Ruolo Vang Gruppo Coperni Osama Allora Like Mary Nome Riege Ruolo Rostituta Gruppo Coperni Banana Arianna Ruolo Cugina Gruppo Coperni Cilla Ama Matilde Ruolo Non Gruppo Coperni Caviar Alice Ruolo Gruppo Gruppo Coperni Fratelli Ruolo Mercanti di tappeti Gruppo Coperni Can Alessandro Ruolo Aviatore disoccupato Yang Sun Gruppo Coperni Nome Stile Ruolo Gruppo Gruppo Paola Ruolo Terzo dio Gruppo Nome Stefano Secondo dio Ruolo Gruppo Coperni Nome Nicola Ruolo Primo dio Gruppo Coperni 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 Noma